Leonora Fauner, prima stagione da senior, quindi è una stagione importante, è vero? Sì, sicuramente, è una nuova esperienza per me, non so ancora cosa aspettarmi, ma vedremo, dai. Un bilancio della passata stagione, sei stata soddisfatta? Sì, sono stata molto soddisfatta, ho avuto una continuità al tiro, sono andata anche discretamente bene sugli sci, abbastanza bene, quindi. Preparazione invece di questa estate? Eh, molto bene, stiamo lavorando tanto e anche al tiro vedremo cosa succede, certo mi sto impegnando molto di più rispetto all'anno scorso. La Coppa del Mondo in questa stagione è subito un obiettivo? In realtà no, cioè non so ancora aspettarmi perché cambia categoria, veramente non lo so cosa succederà, vedremo. Quindi non ti sei posta nessun obiettivo particolare se non di migliorare sempre? Sì, migliorare, quest'anno sì, è un anno di esperienza.